Una squadra di vigili del fuoco di Asiago, un'ambulanza del 118 partita dal centro altupienese sono accorsi stamattina nel territorio di Lusiana Conco in soccorso di una donna estratta da un'auto scontratta si contro un albero nella mattina di lunedì. La conducente stava viaggiando solo in quel momento in via Berti in un tratto di semicurva quando per ragioni da determinare uscita dalla carreggiata andando a sbattere sulla pianta a velocità sostenuta. I danni riportati dal mezzo nella collisione frontale, secondo le prime informazioni, hanno impedito la fuoriuscita autonoma dell'automobilista, tanto da richiedere con urgenza l'intervento dei pompieri. La conducente, sempre rimasta cosciente, avrebbe riportato contusioni su cui sono in corso accertamenti all'ospedale di Asiago dopo ricovero in codice giallo. Causare l'incidente potrebbe essere stata una distrazione alla guida o un colpo di sonno o malessere. Non si hanno notizie di altri veicoli coinvolti.